Adesso i tuoi sogni diventano realtà! Piccole gioie di Roberta Rappocciolo, di Enrico Fermi19, Melito Porto Salvo, Bomboniere delle migliori firme, Pelletteria Uomo Donna, Basile, Biaggiotti, Pietri, Profumi, Boss, Dolce Gabbana, Grigio Perla, Gianmarco Venturi, Soprani, Biaggiotti, Tutto per la scuola, feste di compleanno con varie marche, Frozen, Masce e Orso, Winks e Peppa Pig, Piocchi per nascita, creazioni particolari per ogni evenienza, piccole gioie di Roberta Rappocciolo, via Enrico Fermi19, Melito Porto Salvo, Info 334 13 12 736